musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo alla Winter Royale nel megatorneozzo quello che è stato organizzato da Epic Games con un milione di dollari come Montepremi ma a noi non ce ne frega niente oggi facciamo la terza challenge del canale ed è una challenge che mi avete consigliato proprio voi ragazzi la challenge la conoscete benissimo è la Delta Plano quindi ragazzi come funziona è super super easy il mio Delta Plano è random adesso nel momento in cui atterreremo e apriremo il Delta Plano la rarità dello stesso sarà il tipo di armi che potrò prendere quindi solo armi con la rarità del Delta Plano speriamo di portarcela a casa speriamo di fare un buon piazzamento e vediamo è in culo la balena così di prepotenza intanto vi ricordo ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news i leaks e le challenge che faccio di Fortnite andiamo a Landine vai giù a Lande vediamo che Delta Plano abbiamo il problema è ricordarsi la rarità dei Delta Plani vediamo se siamo fortunati allora proviamo 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 vediamo un po' che cosa succede fra qualche secondo apriremo il Delta Plano e scopriremo il tipo di armi che possiamo prendere oh porca questo non so che Delta Plano sia che delta Plano è questo? porca non me lo ricordo penso che sia non è leggendario può essere epico sarà blu ragazzi sarà sicuramente un Delta Plano blu questo ma non essere blu raga dai era paradossalmente blu quel Delta Plano sono sicuro che era blu ragazione chest numero 3 arrivano shieldini sono molto interessanti li prendo molto bene molto bene molto bene questo non sapevo ancora sparare ok abbiamo zio Frank che stava bevendo come un pazzo vecchio ubriacone di uno zio Frank 40 secondi ragazzi attenzione andiamo 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 molto bene molto bene e da qua prendiamo subito il salto 2 kill per lo xuder attenzione e si prosegue prepotentemente verso la safe situazione molto problematica in questo momento ragazzi safe super distante e soluzioni molto approssimative no dobbiamo per forza sacrificarci prendere un quad e andare con quad vai devo vedere se c'è un lanciagranate blu non posso non vedere una minigun leggendaria via 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 andiamo Frank ok bene così bene così ottimo si prosegue senza troppi problemi è l'unica soluzione che abbiamo purtroppo abbiamo anche i pinnacoli davanti proseguiamo proseguiamo buono così cerchiamo di guidare bene di non azzardare con le evoluzioni e di non perdere danno oh su due ruote attenzione va dalla parte opposta ma si rigira molto velocemente siamo dentro in 14 raga quasi top 10 zizzaghiamo per evitare le cecchinate andiamo da sopra potrebbe esserci gente da qua ragazzi ma ci stiamo anche garantendo di evitare pinnacoli questo giro mi piace ma devo comunque stare attento perché adesso è molto più probabile trovare gente siamo in 13 non andare dritto per dritto vai 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 adrizzo al quad abbiamo subito leggeri di anni va bene niente di che siamo arrivati in safe basta quad basta quad ci sarà quasi certamente gente dentro qua una rapida occhiata da fuori non mi sembra di vedere nessuno 24 secondi e si stringe la safe e andiamo avanti ragazzi siamo dentro in 12 l'azzardo di nuovo salgo la montagna con quad non spreco il materiale forza siamo rampicati prepotentemente col quad ancora parecchia strada da fare raga si chiamano di utilizzare meno materiale possibile ma addirittura opterai per scendere per recuperare una pietra e per andare in safe da lì controllare la situazione ragazzi attenzione che la partita si fa molto intensa forza forza così ricopriamo la pietruzza ricopriamo la pietruzza bene così con la pietra oscura e avanziamo ancora armi leggendarie che non posso prendere forza allora c'è gente che spara dalla montagna ci siamo eccoci a parco pacifico ragazzi rimasti in 11 deve creparne uno e prenderò un punto per essere entrato nella top 10 serve una buona base che potrebbe essere questa casa che vista così sembra addirittura no loot mi azzardo a confermare che non è loot la casa raga un altro grande azzardo prendiamo un punto molto bene non diamo nell'occhio passiamo da qua passiamo da qua siamo dentro in 10 eh raga la casa in realtà è stata luttata ma non è passato nessuno in cantina siamo in safe abbiamo un bolt sento sparare prepariamoci una via oh non lo posso prendere lo scarviola non lo posso prendere devo prepararmi una via di fuga raga si sparano là davanti stiamo sprecando troppo materiale mi sono ricordato adesso che non ce n'è tanto torniamo a 400 c'è un p90 viola di non possiamo prendere neanche quello guardalo 105 non lo prendo per un millimetro non stare fermo non stare siamo fuori safe siamo in 7 siamo in 7 siamo fuori safe qua serve assolutamente recuperare ancora un filo di materiale e correre verso la safe senza dare troppo nell'occhio attenzione ce n'è uno qua ce n'è uno anche qua 105 anche a questo e qua entrerei a pusharlo adesso mi butto giù un'altra attenzione manca questo che è qua stava buildando non posso recuperare nulla di questo ben di dio posso solo fullarmi con il materiale e andare a pushare questo non è qui siamo in 6 devo salire o salgo adesso non salgo più ho perso a dove mi sta sparando il tipo obbligato a salire butto giù un altro troppo che casino primi gusti tenta di chiuderlo in safe lo vado a fare attenzione mamma mia che challenge rimane ancora vivo gliene manca uno e qua cambio tattico via le bende dentro il rampino siamo in 2 5 kill per xyuder bisogna capire dov'è eccolo va a prendere e muore così poteva vincerla e qua si prende gli insulti gg bravo figa come sono un coglione dai raga questa era mia raga questa era mia raga perché perché devo fare queste minchiate perché devo fare queste minchiate beh ragazzi io spero che la challenge vi sia piaciuta vi mando un abbraccio grande un bacione noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti